Amici di Youtube ben trovati da Marco Ligori, innanzitutto voglio augurarvi un buon inizio di marzo 2023, in questo video vi mostrerò una foto bellissima del passato di Maurizio, una foto che c'è da scommetterci, toccherà le corde dei nostri cuori e prima di iniziare vi ricordo che a 700 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, cari amici di Youtube seguite questo video fino alla fine, oltre a mostrarvi una foto bellissima, una foto inedita del passato di Maurizio, in questo video ci sarà un sondaggio e la mia dedica personale dal 24 febbraio, ovvero dalla data in cui Maurizio Costanzo ci ha lasciato, tutti quanti noi abbiamo la percezione, il sentore che le nostre vite non siano più le stesse, come ha dichiarato il grande Gerry Scotti, Maurizio Costanzo era parte di tutti quanti noi, non soltanto della televisione e della cultura popolare italiana in questa sede, ricordiamo le belle parole di Luca Laurenti che ha dichiarato, amavo Maurizio Costanzo, gli volevo bene, come ad un padre lo stesso Gerry Scotti, poc'anzi menzionato, ha dichiarato, Maurizio mi ha insegnato quanto fosse importante una vita da mediano, quasi a parafrasare la canzone, di Luciano Ligabue in questa sede, mostriamo la nostra vicinanza, il nostro affetto a Maria De Filippi che anche in questi giorni si è comportato come la grande donna che è, il primorale di Marco Liguri, è vicinissimo a Maria De Filippi, da sempre una grandissima donna, ricordiamo Maurizio Costanzo anche nelle vesti di Parolire, sua tra l'altro la canzone, se telefonando e iniziamo quindi questa bellissima fotogallerie che culminerà con l'ultima straordinaria foto, una foto di Maurizio Costanzo con il più grande di tutti, vediamo già da queste foto momenti memorabili a cavallo tra i decenni, abbiamo visto una foto in bianco e nero con Maurizio Costanzo e il grande Paolo Villaggio in questo fotogramma, vediamo un altro emblema della Romanità, ovvero Alberto Sordi, Vittorio Gasman, Maurizio Costanzo e la sua opera giornalistica e televisiva ha travalicato i decenni, Maurizio Costanzo ha fatto parte della storia, non soltanto della televisione italiana, lo vediamo con la soralella in un'immagine del 1991, ma amici YouTube, la foto che maggiormente toccherà le corde dei nostri cuori e la seguente, vediamo un giovane Maurizio Costanzo, appena ventenne alle prese, con il grande Totò, vediamo Maurizio Costanzo, con il principe della risata, una foto esclusiva davvero bellissima e scrivete nei commenti. Cosa ne pensate di questo scatto meraviglioso che forse più di tutto ci fa capire la grandezza di Maurizio Costanzo in questo video, parafrasando la canzone, se telefonando, scritta appunto da Maurizio Costanzo, volevo fare la mia dedica al grande conduttore. Caro Maurizio, se telefonando in questo momento potessi dirti ciao, giuro che lo farei. Amici YouTube, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa mia dedica che ovviamente va a parafrasare la storica canzone cantata da Mina ma scritta da Maurizio Costanzo in questo video. Vi lascio anche con un sondaggio, il sondaggio di oggi è molto semplice, scrivete nei commenti un aneddoto legato a Maurizio Costanzo, un momento televisivo in cui Maurizio Costanzo vi ha emozionato maggiormente o legato ad una sua trasmissione o legato ad un'intervista con un personaggio particolare. Sono molto curioso di rispondere, di leggere i vostri commenti e ovviamente il primo commento è del sottoscritto ma risponderò a tutti i vostri commenti, inizierò la discussione per primo. Amici YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate della foto di Maurizio Costanzo e Totò, fatemi sapere cosa ne pensate della mia dedica a Maurizio Costanzo e soprattutto rispondete al sondaggio che vi ricordo ancora una volta è il seguente. Scrivete nei commenti un momento di televisione con Maurizio che vi ha particolarmente emozionato. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, soprattutto se siete arrivati a questo punto del video, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.